A Dermacity, sotto la nostra pelle, oggi è una giornata di fuoco. Aiuto, aiuto! Sono bloccata! Ed è solo l'inizio! Con questo sole presto tutta la città sarà in fiamme! Ne sei sicura, Melanie? Neo, voglio proprio vedere come farai a fermarmi! Brutta melanoma che non sei altro! Ti fermerò con questi! Oh no! I vestiti anti-UV! Stavolta hai vinto, ma ci rivedremo presto! Parola di Melanie! Neo, cosa posso fare per ringraziarti? Sei tu che puoi fare molto contro il melanoma! Non esporti al sole nelle ore più calde e indossa gli appositi vestiti anti-UV! Grazie a tutti!